Io lavoro con la mia testa, ti sei mai chiesto perché io sono l'unico ad avere le foto dell'attentatore? Meticoloso nelle sue indagini come un poliziotto privato, Marco Bonelli è sempre pronto a rischiare la vita per scoprire la verità. Lei spara a zero sulla sciarga, ma come fa ad essere così sicuro? Intraprendente, audace, ma soprattutto onesto, si muove con coraggio e abilità in ambienti loschi, dove la gente è priva di scrupoli. Dopo il grande successo dell'anno scorso, torna sugli schermi Scoop, fattore umano, mercoledì e giovedì alle 20.40 su Rai 2. Scegli la bontà di pizzaiola Locatelli, con i fermenti lattici vivi e tanto gusto di latte. Pizzaiola Locatelli è buona da mordere, perché Locatelli fa le cose per bene. Menta fabbri, la menta più fresca che c'è. Menta fabbri, la sete, passa col verde. Blanco e Stecco Ducale, tu da che parte stai? Noi d'estate non rinunciamo al primo. Condiriso Leggero Berni, il primo dell'estate. Primo e unico. E con Condiriso e Condipasta puoi vincere premi immediati e viaggi da favola. Mamma, ho resistito anche stavolta. Sai, lui mi ha detto, prendiamo qualcosa. Ho già le chipster, le ho detto. E lui mi ha detto, ma io ho detto no. Ma le chipster stanno per finire, mamma. Patatose da croccare chipster, come te. Nessuno c'è. Perché giugno porti il sole su ogni vostro desiderio, Fiat rimette l'ottimismo in circolazione. Volete godervi l'estate? Fiat nuove e soldi in tasca? Vabbè, prima rata, gennaio 94. Dite sempre che il tempo è denaro? Scegliete la Fiat che volete. Basta il 15%, il resto anche in 4 anni. La vostra vecchia auto non vale più una lira? Per Fiat vale 2 milioni per passare alla palla. E 2 milioni e mezzo per passare alla 1. Giugno, Fiat rimette l'ottimismo in circolazione. Pizzaiola, la mozzarella buona da mordere presenta Ciliegie di latte, le mozzarella buone per la tua fantasia. Più gusto alle tue invenzioni. Nuove idee per i tuoi piatti con ciliegie di latte pizzaiola. Perché Locatelli fa le cose per bene. E di questi ce ne sono solo due al mondo. Vero, Ambrogio? Certo, signore. Uno è qui. E l'altro ce l'ho io. Quello invece... È meno preciso di questo, vero Ambrogio? Dove l'hai trovato? Un regalo, Will in Time. Tiratura limitata. Allora? Scoperto. Li regala Agip con le grandi corse. Uno ogni cambio d'olio. L'Agip, Ambrogio? Certo, signore. Ma non mi chiamo Ambrogio. Le grandi corse. Informati dai gestori Agip. È puro, è senza coloranti, è senza sapone, è ipoallergenico. È neutralia dermoprotettivo. Il nuovo gel detergente viso dei laboratori Garnier. È puro, neutralia dermoprotettivo. Senza sapone, anticalcare, non secca la pelle del viso. Sì, che la mia pelle è liscia e ben idratata. Nuovo gel detergente viso neutralia dermoprotettivo. Garantito dai laboratori Garnier, Paris. Puro, per il rispetto e la salute naturale della pelle, anche sensibile.